ciao ben trovati a tutti buona domenica oggi vediamo l'analisi su un trade che abbiamo aperto e che è tuttora aperto quindi anche troppo scaramantici però è interessante la situazione anche proprio per chi inizia e per chi fa analisi tecnica qui vedremo proprio analisi tecnica di base nuda e cruda senza oscillatori indicatori o altro quindi price action pura canada franco svizzero time frame daily candele giapponesi si viene da una lunga fase di downtrend si forma prima questo minimo assolutamente importante il prezzo riparte va a prendere area 0 68 questa è un'area di resistenza evidentissima che respinge il prezzo in maniera decisa con questa discesa molto ripida e si va a formare di nuovo quest'area supportiva assolutamente interessante perché vediamo come più e più volte venga testata e in sostanza tenga anche noi entriamo long il 24 di agosto quindi su questa candela bullish quindi in sostanza entriamo long sulla forza non sulla debolezza ossia il giorno prima abbiamo una sorta di pin di hammer si poteva tentare l'ingresso qua ma sostanzialmente ho detto che abbiamo così tanto spazio di salita che mi interessa avere un po più di certezza quando si entra quindi vedere un effettiva ripartenza a posizionare uno stop loss non strettissimo perché 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 è un'area di supporto molto importante dove il prezzo più volte va a toccarla quindi ci poteva essere una situazione di dubbio di indecisione una notizia e quindi magari avere il prezzo che prende va leggermente al di sotto prima di ripartire cerco di considerare sempre le aree come dico anche spesso nei webinar e non i livelli quindi questa per me è un'area supportiva per cui se ho questa pin qui non vado a mettere lo stop loss un tip sotto lo metto leggermente più largo perché ripeto tante volte si va in stop loss di un pip si dice il broker e i mercati vogliono mi vogliono non ce lo dicono cioè in verità questa è un'area e su quest'area il prezzo può ballare quindi diamo un po di spazio per far sfogare eventuale volatilità dei fatti poi quello che è successo ripeto noi siamo entrati su questa candela 0 65 10 quindi a questo livello il prezzo torna ancora torna ancora a testare questa area scusate noi ovviamente erano ancora lo stop molto largo bene al di sotto quindi veramente sfiorato da uno stop loss a 0 64 e 20 ok quindi era un stop loss qui in sostanza davamo possibilità al prezzo di fare ancora una finta di fare un'altra altro movimento esaustivo eventualmente quindi per poi evitare le trappole ok e poi c'è la ripartenza abbiamo la ripartenza il prezzo è andato poi a rompere la nuova resistenza che si era formata quindi nel brevissimo avevamo proprio questa area di trading range molto stretta eccola qui e quindi qui c'era il rischio che il prezzo non la rompesse al rialzo o che potesse rimanere ingabbiato dentro quest'area rossa fino a quando 31 di agosto rottura pullback fatica ancora e poi riesce a rimanere sopra fino all'ultima candela di venerdì che sembra sembra aver confermato la parte alta del rettangolo rosso come come supporto quello che è interessante vedere al di là di come andrà il trade quello che è interessante vedere proprio il movimento classico di analisi tecnica per cui il ritorno poi il riaccumulo poi la prima rottura un pullback e il tentativo di partenza ok se ci pensiamo queste figure quelle impostazioni su forum o comunque sul libro di analisi tecnica diamo tantissime volte chiaramente ecco sta a noi poi avere pazienza noi siamo dentro dal 24 di agosto vai in sofferenza i quattro giorni dopo e devi dire ok devo credere nella bontà dell'analisi perché quest'area supportiva un'area importante do tempo al prezzo di creare di sfogliare la sua volatilità qui si stava caricando proprio come una molla in compressione poi riesce a uscire riaccumula riparte per cui a noi sta il dovere l'impegno di cercare aree e non livelli precisi ripeto aggettivamente importanti visibili quest'area supportiva credo che anche chi faccia analisi tecnica da pochissimo tempo la vada a evidenziare la vada a trovare a vedere e poi si tratta semplicemente di avere pazienza di impostare un trade di non stringere di non strozzare troppo o troppo presto l'operazione cosa intendo dire che dopo questa candela bullish si sarebbe potuto dire ok vado a mettere subito lo stop in pari perché così sto tranquillo essendo entrati a 0 65 10 quindi qui se io avessi messo lo stop in pari già subito dopo questa candela bullish ecco che sarei stato stoppato a 0 per poi vedere il prezzo che comincia di nuovo a muoversi quindi cercare aree importanti non strozzare subito il trade e dare il tempo proprio al prezzo di respirare quindi questo volevo condividere perché mi sembra un impostazione grafica molto molto interessante un saluto a tutti buon trading a tutti i nostri ammettori e quindi ci sono stati molto molto più importanti e quindi a tutti i nostri ammettori e quindi a tutti i nostri ammettori e quindi a tutti i nostri ammettori